ola 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 qui max de barro stronzo se sto facendo questo brevissimo episodio era solamente per informarvi di una certa situazione all'interno della geek battery 2.0 se voi vi ricordate all'interno dell'episodio 4 io avevo presentato quello che aperte virgolette era il mio protetto chiuso virgolette il signor jasper 85 che molti di voi conosceranno come la persona che mi stava facendo i fumetti per quanto riguarda la pirate craft all'interno della mia pagina facebook che tra l'altro trovate in descrizione come avrete forse notato il signor jasper dopo un video praticamente o due che aveva fatto anche all'interno del suo canale e solamente uno che aveva fatto in mia collaborazione è un po sparito dalla circolazione questo non è dovuto a impegni contingenti o al fatto che lui sia una persona poco seria quanto il fatto che gli è successo qualcosa di non so come dirvela quindi ve la dico basta di spiacevole dal punto di vista della salute ha avuto un qualche tipo di attacco di qualche cosa che di emofilia una roba di questo tipo fatto sta che in parole povere lui suda sangue o comunque tipo ne perde in maniera allucinante e in questo momento è ricoverato credo in qualche tipo di ospedale e logicamente è impossibilitato a fare video naturalmente lui mi ha detto a mi dispiace tanto di far video eccetera eccetera e naturalmente io dal punto di vista umano gli ho detto guarda figurati te se ti devi preoccupare di un cazzo di gioco e soprattutto non penso insomma che che la gente possa fare una colpevolizzazione di questa cosa qua però tu pensa solamente a rimetterti in sesto perché questa è la cosa importante dato però che mi ha scritto suo fratello su facebook pregandomi praticamente di fare un video in cui spiegava la situazione eccomi qui a dirvi insomma che se il signor jasper manca da qualche tempo all'interno di questa nostra combricola non è certo per sua volontà né per una mancanza di serietà ma appunto per problemi che sono diciamo così più grandi noi io non non penso di avere nient'altro da aggiungere perché è stato già tutto quanto detto spero assieme a tutto quanto il resto della geek battery e a qualunque insomma altra persona gli possa voler bene una pronta guarigione perché comunque sia non è una cosa tipo mortale però come capirete non è neanche una fesseria dato che ha ricoverato e spero insomma che lui possa tornare quanto prima a dire cagate insieme a noi tra l'altro gli dobbiamo ancora dire questa cosa qua del server che è crashato e non so con che cuore riusciremo a farlo perché già me lo immagino tipo che ok ragazzi mi sono rimesso adesso finalmente non perdo più sangue anche dalle orecchie noi diciamo guarda che c'è crashato il server e tipo dobbiamo ricominciare un'altra piettina e si squaglia d'accordo però vabbè in qualche modo speriamo di vedere che questa cosa si risolva nel migliore dei modi ok stronzate a parte null'altro è rimasto da dire da max dei berrofronzo portavoce ufficiale della geek battery un auguri di pronta guarigione al signor jasper 85 e adiós a todos